Un edificio intelligente alla base di un quartiere e di una città smart, che sfruttano le opportunità offerte dalla tecnologia per migliorare la vita dei cittadini. Ne è convinta FederCostruzioni, la federazione di Confindustria che unisce le categorie del mercato idile e infrastrutturale. Per questo ha organizzato mercoledì il convegno Edificio 4.0, costruire digitale per un'Italia più sociale, più sicura, più sostenibile, con la presenza del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Le costruzioni sono uno dei comparti industriali oggi meno digitalizzati in Italia, eppure i vantaggi sarebbero molti, secondo FederCostruzioni, che propone un manifesto. Dieci proposte per l'applicazione delle tecnologie digitali a vari livelli, per una rigenerazione urbana e una riqualificazione immobiliare di tutto il paese.